L'Italia di Milena Bertolini impegnata nel secondo match della Arnold Clark Cup. Dopo la sconfitta con il Belgio, le azzurri affrontano l'Inghilterra, campione d'Europa in carica. Alla CBS Arena di Coventry parte bene l'Italia, il quinto rapido capovolgimento di fronte condotto da Galli, pallone in aria per Giacinti, il cui destro secco è deviato in angolo dal Reebok. La risposta inglese al settimo, Salvai concede il pallone a Deilly, diagonale immediato dell'attaccante inglese, ma Giuliani è prontissima a respingere. L'Italia pressa bene a tutto campo concedendo poco alle avversarie, ma allo scoccare del 32esimo l'Inghilterra va in vantaggio. Robinson riceve il pallone sulla destra e crossa in mezzo all'area. Deilly di testa supera Giuliani e il gol dell'1-0 per la formazione di Sarina Wigman. Nella ripresa entra Linari al posto di Boatin, le azzurri provano a guadagnare campo ma al 54esimo concedono ancora un'occasione con Hemp che serve Nobbs. Primo cross respinto, poi Giuliani è brava nell'opporsi sul secondo tentativo dell'inglese. Un minuto dopo Giuliani di nuovo protagonista, il pallone buono in aria è sempre per Nobbs, ma l'azzurri ancora attenta a deviare. Minuto 55 Bertolini inserisce anche Caruso e Cantore al posto di Galli e Girelli e al 62esimo l'Italia pareggia. Azione insistita di Bonanzea sulla sinistra, la giocatrice della Juventus va sul fondo e crossa per l'arbitro prima che il pallone esca del tutto. Cantore di testa scavalca Ribuc che tocca ma non impedisce alla sfera di superare la linea di porta. Primo gol in nazionale per Cantore alla sua presenza numero 11. Al 71esimo l'Inghilterra torna avanti. Bonanzea contrasta James e rimane a terra. L'azione prosegue la stessa James e mette in mezzo un pallone per l'inserimento perfetto di Daly che infila l'incolpevole Giuliani per il 2-1 britannico. Entrano anche Greggi e Serturini per Bonanzea e Rosucci. Le azzurre provano a reagire ma l'ultima chance arriva solo al minuto 93. Giacinti apre benissimo per Serturini che si invola verso la porta. La conclusione però è imprecisa e termina sul fondo. Finisce 2-1 per l'Inghilterra. Mercoledì 22 febbraio, terza gara del torneo per l'Italia che affronterà la Corea del Sud.